amici di battista 70 phone abbiamo provato intensamente questo dispositivo che abbiamo veramente voluto provare che è il google pixel fold un dispositivo che purtroppo in italia non è mai arrivato e appunto sottolineiamo il purtroppo perché l'abbiamo utilizzato per circa una settimana dieci giorni come dispositivo principale e veramente ci ha stupito ci aveva già incuriosito nel momento del lancio che ricordiamo fu intorno a giugno del 2023 e abbiamo deciso appunto di far di tutto per averlo per provarlo che ci ha dato parecchie soddisfazioni praticamente è quello che secondo noi dovrebbe essere in linea di massima diciamo c'è sempre da limare qualcosa però è quello che dovrebbe essere un dispositivo pieghevole per me soprattutto per me perché adoro questo tipo di dispositivi dispositivo pieghevole cos'è è un dispositivo compatto quindi che mi viene comodo da utilizzare con una mano ma che ho l'occorrenza mi diventa anche un bel piccolo tablet questo secondo me è l'essenza di un pieghevole adesso ci sono in giro parecchi dispositivi parecchi smartphone pieghevoli che hanno più o meno una forma comoda sottili pesanti leggeri però secondo me noi questo qui che era già un formato introdotto anche da un altro da un altro produttore che purtroppo anch'esso non è mai arrivato in italia è proprio perfetto per essere utilizzato come smartphone e all'occorrenza come piccolo tablet adesso andremo al banco ve lo faremo vedere con più ecco che siamo tornati al nostro bel pixel fold andiamolo a vedere più da vicino allora caratteristiche fisiche il display anteriore da 5,8 pollici display interno da 7,6 pollici avete notato il meccanismo di apertura di chiusura una bella cerniera che è veramente ben fatta in acciaio da una bella sensazione una sensazione rigida ma non troppo rigida rimane bella morbida anche ad aprirla chiude con la posizione a 90 gradi intermedia veramente diciamo che da questo punto di vista google secondo noi ha fatto un bel lavoro il dispositivo è in gorilla glass victus anteriormente e posteriormente e ovviamente il display è protetto il display pieghevole e protetto da plastica avete notato già nel display interno che ci sono delle belle cornici diciamo si vedono ricordano più dispositivi di qualche anno fa però c'è un perché perché google ha deciso di inserire non so se vedete contro camera qua ma ha deciso di inserire la selfie cam da 9,5 megapixel direttamente nella nella cornice del display interno per non andare a impattare sulla sull'efficacia della visualizzazione che rimane bella schermo pieno il form factor appunto secondo noi è il fattore diciamo principalmente di forza di questo dispositivo perché come ho detto nella intro rimane compatto vedete come lo tengo bene in mano da chiuso ma estremamente comodo da usare anche da aperto con questo ampio display che ci viene veramente comodo per un po' tutte le operazioni un attimino più complesse dopo andremo a vedere il software abbiamo detto della cerniera una cerniera che la faccio vedere per l'ennesima volta è veramente fatta veramente bene 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 allora peso c'è 280 grammi da aperto viene lo spessore rimane intorno adesso ai 5,8 mm scusate l'ho letto perché provando tanti dispositivi un pochettino andiamo anche in palla invece da chiuso è da 12,1 mm ovviamente lo spessore c'è però tutto sommato la proporzione soprattutto del display esterno consente di maneggiarlo veramente bene avete notato aprendolo che vedete non rimane perfettamente adesso vediamo se riusciamo a mettere a fuoco eccolo qua non rimane perfettamente dritto diciamo se lo appoggiamo in una superficie piatta questa parte destra rimane leggermente alzata c'è un motivo perché google diciamo ha buttato un po' le mani avanti dai diciamo passatemi questo termini ha buttato un attimino le mani avanti e non ha studiato questo pixel fold per essere completamente esteso ma ha lasciato un piccolo gioco a favore appunto della longevità del dispositivo allora a me non dà fastidio sinceramente perché chi utilizza lo smartphone aperto su una superficie piatta praticamente nessuno e una volta invece che lo utilizziamo in mano da aperto praticamente questo dislivello non si vede anche la piega la piega è leggermente percepibile però utilizzandolo se ci vado su col dito ovviamente la sento però utilizzandolo veramente non va non mi va a dare fastidio proprio per niente allora eccolo qua anche la nostra bella visualizzazione vedete la visualizzazione su internet è bella fluida il browser ovviamente chrome rimane bello fluido vedete come lo riesco a vedere bene ho proprio tutto sotto controllo e una volta che lo chiudo automaticamente mi passa direttamente sul display esterno che è un bel display da 5,8 pollici ricordiamo comunque un display 120Hz di refresh rate e con una luminosità massima di circa 1500 nit come il display interno che siamo sui 1450 nit se non vado errato ma ci avviciniamo ok l'abbiamo visto fisicamente adesso andiamo a raccontarvi un attimino le caratteristiche tecniche praticamente è un pixel 7 pro che si piega perché il processore è un tensor G2 da 5 nanometri abbiamo 12 GB di memoria RAM DDR5 in questo caso 256 GB di memoria ROM o c'è anche l'opzione 512 una FS 3.1 perché ricordiamo è un hardware dell'anno scorso cosa abbiamo ancora? abbiamo dei base speaker stereo speaker stereo uno qua e uno qua abbiamo il sensore di impronta digitale nel tasto di accensione e spedimento comodo da raggiungere anche con una sola mano il bilanciere del volume da quest'altra parte sotto abbiamo il carrello nano SIM e l'USB-C la presa USB-C abbiamo i microfoni e i microfoni vari e questo è tutto allora cosa vi possiamo raccontare di bello ancora di questo dispositivo? ce n'è tante riove da raccontare di bello andiamo a vedere la fotocamera la fotocamera anche in questo caso si avvicina moltissimo a quella del Pixel 7 Pro è una principale da 48 megapixel stabilizzata otticamente ha un sensore zoom da 10.8 megapixel con 5x di zoom ottico stabilizzato otticamente anche questo un ultra grande angolare da 10.8 la selfie esterna è da 8 megapixel la selfie interna come vi ho detto prima è da 9,5 megapixel andiamo a vedere un attimino la qualità degli scatti gli scatti sono nettamente di ottima qualità adesso ho aperto erroneamente un video andiamo a vedere gli scatti questi sono degli scatti in notturna questo utilizzando lo zoom vedete la qualità è veramente elevata per essere soprattutto impieghevole siamo più o meno sulla stessa linea d'onda del Pixel 7 Pro che ha uno standard molto elevato vedete anche il contrasto, il bilanciamento della luce i dettagli, i contorni sono veramente di ottimo livello queste invece sono foto scattate in diurno e vedete adesso ne ho fatte parecchie ma vedete anche zoomando che mi rimangono tutti i dettagli stiamo parlando di impieghevole ragazzi non è però è un pieghevole che ha la magia della Gcam e la Gcam fa veramente dei miracoli dei miracoli veramente eccezionali vedete molto belle andiamo a vedere un attimino il video vediamo il video anche questo molto ben stabilizzato l'ho fatto mentre camminavo quindi vedete un attimino com'è fluido stabilizzato promosso un comparto foto video che secondo me è nettamente superiore alla media dei pieghevoli che è attualmente in commercio anche di quelli molto più moderni probabilmente c'è un pieghevole che è sugli stessi livelli però noi non l'abbiamo mai provato software un'altra magia di Google Android Stock praticamente avete Android come mamma Google l'ha fatto su un dispositivo pieghevole il pieghevole cos'è che è molto importante a livello software? il multitasking andiamo a vedere cosa ha studiato Google per questo suo dispositivo per esempio andiamo ad aprire il nostro bel YouTube apriamo YouTube poi vogliamo aprire nello stesso momento l'applicazione messaggi eccoci qua avremo YouTube da una parte e i messaggi dall'altra possiamo allargare la sezione di YouTube allargare la sezione dei messaggi oppure fare sparire completamente la sezione dei messaggi e andare su YouTube eccoci qua un'altra bella un'altra bella funzionalità il dispositivo può essere messo diciamo a modalità mini PC e possiamo andare a vedere un nostro un video anche tenendolo appoggiato vediamo video 4K eccolo qua proviamo a mettere un video 4K mettiamo la nostra bella Italia e vedete qua così nel frattempo vedete qua abbiamo la modalità Assimil Notebook e questa implementazione praticamente c'è su tutte le applicazioni native di Google già che ci siamo a questo punto andiamo a vederci la qualità del display e anche dell'audio colori i colori sono veramente ottimi e anche la risoluzione del display è perfetta per la visualizzazione di video sentite anche l'audio stereo bilanciato con tutte le le frequenze ben udibili grandissimo lavoro da parte di Google a noi è piaciuto moltissimo tutto questo audio di vista allora andiamo a riprendere le applicazioni le applicazioni abbiamo una sezione dedicata nel software che anche questo è molto che ci permette praticamente di andare a formato andare a espandere qualsiasi tipo di applicazione anche se non nativamente prevista per il pixel fold proviamo per esempio a voler espandere questa applicazione andiamo su schermo intero quindi una volta che noi la apriamo direttamente dallo schermo intero ci vediamo questo tipo di visualizzazione facciamola partire ed ecco qua perfettamente adattata al display da 7,6 pollici andiamo a prendere un'altra possiamo anche farlo durante l'utilizzo vedete quando io la vado a aprire dall'ispray interno pixel fold mi suggerisce di espanderla eccolo qua mi suggerisce di espanderla io vado ad espandere schermo intero e adesso l'abbiamo perfettamente adattata allo schermo intero ottimo cosa vi posso raccontare ancora di questo dispositivo la batteria da 4821 mAh mi ha permesso tranquillamente di utilizzare il dispositivo per una giornata stress senza ben che minimo problema tenendo anche presente soprattutto che il display esterno da 5,8 pollici con questo tipo di formato si presta molto ad essere utilizzato da chiuso quindi il display interno noi lo utilizziamo quando viene la necessità quando effettivamente abbiamo voglia di utilizzarlo col display ampio da 7,6 pollici perché altrimenti possiamo fare praticamente tutto in un display da 5,8 che degli standard moderni è un display piccolo ma se non ricordiamo solo qualche anno fa 5,8 pollici era un bel display teniamo presente che lo smartphone più venduto del pianeta che sapete cos'è ha un display da 6,1 pollici quindi quindi la batteria mi ha soddisfatto ricarica abbiamo la ricarica wireless integrata ovviamente la ricarica wireless inversa e poi abbiamo la ricarica cablata che mi ha consentito appunto di caricare il dispositivo in circa un'oretta neanche 50 minuti diciamo dai completamente da 0 a 100 sapete che Google non partecipa alla gara della ricarica più rapida però secondo noi è più che sufficiente anche perché l'autonomia è ottima quindi non abbiamo avuto la necessità di ricariche aggiuntive durante l'arco della giornata Android Stock abbiamo detto appunto il dispositivo nasceva con Android 13 è stato prontamente aggiornato da Android 14 sapete che questo è un dispositivo direttamente di Google quindi gli aggiornamenti avverranno repentinamente e finché l'hardware lo consentirà solitamente Google per 4-5 anni garantisce i maggiori update quindi anche longevo nota dolente il prezzo questo gioiellino non è mai stato commercializzato in Italia ma solo in 5-6 mercati selezionati da Google da alcuni dei quali in Europa tra cui la Germania da dove proviene questo esemplare e il prezzo è all'incirca di listino di 1799 euro per la versione 256 e 1899 per la 512 impegnativo impegnativo però sappiamo che Google è Google se lo può permettere non ha la necessità di vendere dispositivi a Iosa perché Google ha i suoi profitti da altre fonti ed è un dispositivo di nicchia quindi gli amanti dell'Android Stock sicuramente andranno a vederlo con molto interesse e se avranno la possibilità lo compreranno comunque è un dispositivo che secondo noi costa tanto però è giustificato da tante situazioni che ha in essere anche la longevità del software ci è piaciuto ci è piaciuto perché l'abbiamo utilizzato intensamente per una settimana no 15 giorni da una settimana a 15 giorni continuativo mi sono un po' mi sono un po' bloccato perché l'ho utilizzato per una settimana come dispositivo principale e poi ho messo un'altra sim comunque l'ho utilizzato intensamente e veramente mi è piaciuto mi è piaciuto perché alla fine peso a parte perché il peso c'è inutile nasconderlo peso a parte è un device che è comodo da utilizzare con una mano è comodo da trasportare ha un form factor che è veramente fantastico da chiuso è compatto è utilizzabilissimo da aperto a questo magnifico display che mi permette di utilizzarlo per vedere per visionare internet per vedere filmati per lavorarci multitasking che è un multitasking semplice ma funzionale veramente bello dimenticavo di dire cosa molto importante ipx8 quindi resistente ad inversioni anche se non è il caso di mettere un giuglino del genere un dispositivo che ci è piaciuto comparto multimediale promosso a pieni voti praticamente un pixel 7 pro che si piega quindi ha la magia della gcam con tutte le funzionalità della gcam e la qualità della gcam in un dispositivo pieghevole mi invito a vedere anche la nostra recensione leggere anche la nostra recensione che è scritta dove troverete tutti i dettagli tecnici che qui non sono stato a ripetere per l'ennesima volta e vi saluto e ringrazio per l'attenzione quindi un saluto da Lucio per Battista 70 Fon per l'attenzione